Vi aspettiamo tutti domenica a Bici in Città, a Giulianova, che è una grande manifestazione che si svolge in 120 città italiane contemporaneamente, quindi una grossa cosa per fare in modo che la bicicletta diventi sempre più mezzo di trasporto di tutti, mezzo ecologico, e che serva anche per andare a fare la spesa, per andare a fare i passeggiati e quant'altro, e per cercare di ridurre al minimo l'uso dell'automobile che oltretutto è inquinante e quant'altro. Per l'utilizzo delle piste ciclabili che in Abruzzo sono tante belle e fruibili, quindi ambiente, mobilità, sostenibilità ambientale, se vogliamo anche mobilità personale, allora vi aspettiamo tutti quanti domenica a Bici in Città. Grazie.